Cari amici Nerazzurri e Non, malgrado non l'avessi programmato, sono qui a leggere i vostri commenti in merito a Interpordenone, perché ne sono arrivati tanti, ma veramente tanti, per cui anziché mettermi lì e rispondervi col telefonino, qualcosa molto pallosa, diciamo così, ho deciso, malgrado, ripeto, non fosse mia intenzione, di fare il video appunto dei commenti. E iniziamo, iniziamo subito, Interpordenone che è stata una partita un pochettino particolare, diciamolo pure, però prima di iniziare ci tenevo a dirvi che anziché di andare in onda domani, l'intervista doppia che avevo in mente slitterà ad un giorno di ritardo, quindi penso che per sabato riesco a caricarla, ci ho provato in tutti i modi, però non ce la faccio, tra lavoro una cosa e l'altra, non riesco a lanciarla per domani, e se ne parla dopo domani, c'è un'intervista doppio simpaticissima, non vi svelo nulla, c'è un youtuber inedito, 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 e affiancato da un giornalista, vi svelo solo questo. Ora basta, ora basta, e iniziamo dai commenti. I vostri, 2 a 2, Brignoli is for boys, 5 a 4, Nagatomo is for men. Grandissimo, bravo, bravo. Poi sentiamo cosa dice Leonardo Onori, 35 occasioni da gol, oggi non voleva entrare. Non lo so che partita abbia visto, vediamo un po' cosa gli dicono. Ah, Interisti Channel, un amico che saluto. Leonardo, ciao, puoi iscriverti a me? Ah, fa pubblicità, diciamo, va bene, va bene, fa pure, fa pure Interisti, non c'è problema. Vabbè, parolacce, poi contro il Pordenone dovevano essere il triplo. Ma già mi sarei accontentato di 35, ma io che ho visto una partita non mi sono parse 35, però vabbè, ognuno ha il suo giudizio. K.P., grandissimo K.P., un abbraccio perché è sempre presente nei miei commenti. Ciao Neschio, queste partite sono difficili da commentare. Sinceramente credo che la sfortuna abbia giocato un ruolo importante, ma no, affatto. Certe riserve sono davvero ottime, il problema di stasera è stato di farli giocare tutti insieme in una squadra che non aveva una buona quadratura. Detto questo, bellissima felpa, un caro saluto e sempre Forza Inter. Si riferisce alla felpa che indossavo durante il video, ovviamente. No, io non concordo, forse una delle poche volte che non concordo con te perché non è stata affatto fortuna o sfortuna. L'Inter ha giocato male, le riserve, l'Inter B, chiamiamola così, ha giocato male. Poi le motivazioni possono essere quelle che hai detto perché magari hanno giocato tutti insieme, questo sì. Però, cioè, anche quando è entrato Perisic e Icardi, il gollo non l'hanno trovato lo stesso. E avevano i 30 minuti dei tempi supplementari e anche qualcosa di prima, quindi avevano un buon tempo di gara. 45 minuti che non è poco, eh. I due fumettari. Questo mi è nuovo. La dimostrazione è che l'Inter non può vincere lo scudetto purtroppo per voi. Onestamente, come l'ho chiamata prima, è andato in campo l'Inter B, non l'Inter. E da una partita di Coppa Italia non puoi, non puoi dedurre questo. Lo potresti dedurre se questo, cioè quello, accadesse tipo in Inter Udinese. Allora ti do ragione, ma la Coppa Italia non ci azzecca niente, scuso. A mio modo di vedere. Sette risposte, vediamo qualcosina. Ma va a rosicà. Ci sono parole, diciamo, non molto ortodosse. Lo scudetto te lo sogni di tardare. Te lo sogni di tardare in realtà. Vabbè, forse è meglio non leggere i commenti. Sì, perché quelli sono magari più private. Noi leggiamo quelle indirizzate a me, che è meglio, dai. Pachimertens, si rivede Pachimertens. Bella squadra, merita di andare in B, più forte del Benevento, il Pordenone. Ora giocate con le formule formali. Allora, Umberto Di Canito, o Di Canito. Sono d'accordo con la magra figura e se avessimo vinto il Pordenone, nessuno avrebbe avuto nulla da ridire. Assolutamente sì, anzi, chapeau. Tuttavia, non ci vedo nulla di male. Sono giocatori con un minutaggio scarno. Secondo me è sbagliato inserire tanti nomi, tutti di colpo. Ma vanno inseriti pochi minuti alla volta nelle partite di Serie A per farsi le ossa. Così non va. In ogni caso ancora imbattuti. Non ancora per molto. Forza Inter. Che non è ancora per molto. Stiamo calmi, perché... Chi lo sa, chi lo sa. Però, sì, dai, concordo in generale col tuo pensiero. Poi, il nick non lo pronuncio perché non lo pronuncio. C'è andata solamente di sfortuna. 33% possesso palla. Pordenone 70%. Inter 8 tiri. Il Pordenone 38 tiri verso la porta. L'Inter 3 calci d'angolo. Per il Pordenone 14. L'Inter non come dici tu che hanno giocato i titolari. Abbiamo fatto una figuraccia. Hanno giocato solamente a cavolo. L'hanno sottovalutato. E tra l'altro ci siamo mangiati l'ira di Dio. Abbi fiducia e non criticare. Io anche quando gioco con mio fratello di 8 anni mi metto in porta lo sottovaluto e mi segna il gol. Loro stasera hanno fatto così. Niente di catastrofico. Anzi, meglio così. È una lezione che hanno imparato bene portando a casa ugualmente la vittoria. Non sbaglieranno più. Se lo dici mi filo. Per come sei stato categorico. Se lo dici mi filo. Ovviamente no. Non credo che l'Inter abbia sottovalutato l'avversario. L'Inter di Spalletti non sottovaluta gli avversari. Io credo che le riserve non siano all'altezza dei titolari. E penso che la partita lo abbia dimostrato. Tutto qua. Non è che c'è da dire chissà cosa. Perché poi le motivazioni c'erano. Per quelli che sono subentrati. Altro che motivazione. Altro che sottovalutare l'avversario. Altro che sottovalutare l'avversario. Cioè se avessero giocato i titolari. E avessimo giocato così. Avremmo giocato così. E se avessimo giocato. Mamma mia che ho sti congiuntivi. Se avessimo giocato così con i titolari. Allora sì. Sono d'accordo. Le abbiamo sottovalutate. Hanno giocato riserve che dovevano avere motivazioni a mille. E le avevano. Fidati. Le avevano. Ma cosa ci posso fare se Canselo per esempio ti sbaglia. Un passaggio a due metri. Cosa c'entrano le motivazioni? Michele Gallicchio. Ciao Neschio. Non mi trovi d'accordo con te. Al riguardo della qualità degli innesti di ieri. Secondo me almeno Caramò e Canselo meritano di giocare un po' più spesso. E' chiaro che quei calciatori li metti tutti quanti insieme. Ed il risultato è quello che si è visto. In un altro video avevo già espresso il desiderio di vedere un po' di più tutti quei giocatori visti ieri. Ricordi i motivi? Te li ripeto. Più o meno. Quando non si ha continuità nel giocare si perdono addirittura le misure del campo di gioco. Secondo me Spalletti ha commesso questo piccolo errore. Spero che ne abbia fatto tesoro per il proseguio della stagione. Perché arriverà il momento in cui saremo costretti a fare meno a meno di due o tre titolari importanti. Tutti insieme a quel punto i sostituti dovranno farsi trovare pronti. Ciao Neschio. Amala più di prima. PS abbiamo avuto la dimostrazione pure che abbiamo un ottimo sostituto di Andanovic. Quello sì. Assolutamente sì. Ma che Padelli fosse bravo lo sapevamo perché Padelli ha giocato nel Torino e ci ha giocato egregiamente. Quello che non sapevamo è che questi giocatori invece che venivano da squadre di altri campionati. Questo sì. Non sapevamo. E non lo so. Molti per esempio l'anno scorso hanno difeso fin troppo a spada tratta Gabriel Barbosa per esempio. Io lo dicevo dall'inizio. Ma se qui ci sono tre quattro allenatori che non lo fanno giocare. Ma ci deve essere un motivo. Se quest'anno Spalletti fa giocare sempre i titolari. Ma ci deve essere un motivo. Ma secondo voi Spalletti è fesso? Chiediamocela questa. Chiedetevelo. Sono d'accordo poi che se tu trovi meno spazio. Cioè che se tu non giochi con continuità non rendi. Sono d'accordissimo con te. Però Spalletti non è che ha una rosa così ampia. Cioè ogni tanto potrebbe inserirlo qualcuno. Se non lo fa per l'appunto. Un motivo ci sarà. Non è che voglio difendere Spalletti. Io sono il primo che vorrei vedere sempre giocatori cambiare un po'. E sperimentare. Specialmente quando le cose vanno bene. Però dobbiamo essere anche un po' concreti. Registrato E3. Cosa dice? Secondo me il problema era che la squadra non aveva mai giocato prima contro i titolari. Caramò e Cansello inizialmente volevano farsi vedere con delle giocate riuscite pochissime volte. Poi Cansello molto bene nel secondo tempo. Caramò non mi è piaciuto. Lo penso ugualmente sia un ottimo giocatore. Dalbert male male. Speriamo che questa sconfitta così sofferta non peserà troppo. Speriamo che non ricada ma nemmeno sulla partita che non vada a ricadere sulla partita la prestazione che ci aspetta sabato alle 15. Luca Carroli. Oggi ho sporcato le mutande. Non mi ricordo se mi è nuova o se l'ho risposto. Sì l'ho risposto cambiale allora. Sì perché già l'avevo sentito questo commento. L'avevo sporcale. Che ha detto poi? Già fatto ma almeno abbiamo scoperto di avere un gran secondo portiere. Benissimo benissimo. The Dabbers Brothers. Raga io non voglio bruciare i nostri giovani e la colpa non è solo sua. Ma caramò ragazzi hai mangiato due gol forse anche tre giusti. Se ti divori tutti sti gol le partite si complicano poi è normale. Propositivo sì però male male. D'accordo sì. Propositivo sì ma inconcludente. Cioè sottoporta è stato devastante. Devastante al contrario. Gigi Gigi non mi pare abbiano fatto un'impresa il Pordenone. Fai 35 tiri in porte e non entra anche per l'errore dei nostri. Le nostre riserve non hanno mai giocato insieme. Non sono abituate ad avere minuti sulle gambe. Va bene. Poi questo è un nome impronunciabile. Spalletti ha anche la sua responsabilità oggi. Troppi cambi tutti insieme senza riuscire a dare stimolo ai giocatori che hanno sottovalutato la gara. Forse proprio anche per i tanti campi. Per me hanno deluso più i titolari che le riserve. Sì questo è anche vero quello che dice. Questo è vero. Poi quando sono entrati Perisic e Icardi hanno a mio avviso deluso tantissimo anche loro. Soprattutto Perisic. Soprattutto Perisic. Questo è verissimo. Questo è verissimo. Però non ricordo con questo fatto che per forza di cose Spalletti ha sbagliato perché le ha messi tutti insieme. Ne avesse messo solo qualcuno. Qui staremo a dire lo so bene che ma neanche nella Coppa Italia e neanche con una squadra di Lega Pro come il Pordenone e Spalletti ha messo tutte le riserve. Mi giocherei i cosiddetti attributi. Che tutti così avrebbero detto. E che chi se lo aspettava. Ma chi se lo aspettava che tu col Pordenone. E comunque c'avevi in campo gente come Skrignar. Come Vesino. Gente come Gagliardini. Padelli. Che comunque è un signor portiere. C'avevi Ranocchia. Che ha giocato e ha giocato discretamente l'ultima gara. Nagatomo. Che fino a poco tempo fa era titolare. Ha giocato. Eder. Che è un titolarissimo. Ma di queste riserve. Di queste ultra riserve. Chi c'è? C'è Cancelo. Caramò. Che tra l'altro. Cancelo. Caramò e Dalberti. Che tra l'altro sono stati strapagati. E non dovrebbero nemmeno chiamarsi in teoria riserve. Quindi non lo so perché adesso avete visto che in campo c'erano tutte ste riserve. Levati Cancelo. Cancelo che anche forse qualche minutaggio l'ha fatto. Levati Caramò. Che veramente ha giocato poco. E chi più? Pinamonti. Caramò e Pinamonti. Sono d'accordo. Hanno giocato pochissimo. Ma gli altri? Dalberti qualche minutaggio l'ha fatto. Cancelo idem. Tutte ste riserve. Non ho capito. Gente strapagata. Una strapagata che dovrebbe... Dovrebbe... Cioè... Le zolle del campo. Dovrebbe proprio... Lasciamo stare. Va. Lasciamo. Sono un po' amareggiato anche con... Con alcuni giudizi diciamo. Cristian De Simone. Sapevo che la partita sarebbe andata così. Siamo scesi in campo sottovalutando un Pordenone che in campionato lotta per i playoff. E che è arrivato al San Siro con un solo obiettivo. Lottare e giocare con grinta sempre. E di fatti si è visto. Il risultato è stato quello che si è visto. Un Inter spavalda convinta di poter vincere tranquillamente che si è trovata ad arrivare ai rigori. Per niente soddisfatta ma contento in un certo senso per la qualificazione ai quarti. Poi arriva lui. Iuto San. Iuto San a farcela vincere. Ciao Neschio. E amala sempre e comunque. Un grande abbraccio. Amala sempre e comunque. Anche con te Cristian purtroppo non concordo. Perché a mio avviso l'Inter non poteva per forza di cose sottovalutare questa gara. E non l'ha fatto. E che sono stati semplicemente inferiori al Pordenone per alcuni aspetti. X Darius 19. Secondo me Spalletti ha sbagliato mettendo tutti i panchinali insieme. Se ne avesse messi tre o quattro e poi avesse cambiato i titolari con gli altri panchinali era meglio. Quindi per me non sono male la panchina però non puoi schierarla tutta insieme. Anche qui ripeto per me non c'era tutta la panchina dell'Inter. Agostino Lupo come ti avevo già detto un vero parto. Sì con Agostino ci siamo sentiti privatamente durante la partita. Abbiamo scherzato un pochino. Comunque una piccola nota positiva secondo me c'è stata. Caramò molto veloce sempre al posto giusto al momento giusto. Mi manca solo un po' di cattiveria in più. E un po' di fame sotto porta forse. Non guasterebbe. I nostri giocatori chiave tranne Skriniar sono degli ottimi rigoristi. Jason Bourne. Ho visto solo i supplementari ma il pelato stasera ha stravolto tutto. Comunque ma quanti gol ci siamo mangiati? Il turnover meglio adesso che più avanti. Meglio con il Pordenone. Perisic da quel poco che ho visto mi ha fatto incazzare. Ma dai due tiri e rientrare finiti in tribuna e non solo. Ma gioca per la squadra. Vogliamo parlare della posizione di Eder? In effetti. Comunque abbiamo passato il turno ai rigori con il Pordenone. Ricordo che ha eliminato il Cagliari. Quindi tu qualsiasi squadra che trovi te la devi sudare. Giustissimo. Ma se ti mangi 10 gol stessa cosa detta per la Roma domenica. Questo è il calcio agonistico. E finché arbitro non fischia. Questa è comunque l'Inter. La nostra pazza Inter. Amala! E che la nostra Inter sia pazza lo sapevamo già. E cosa risaputa. Concordo pienamente su Perisic. Anche sulla posizione di Eder. Praticamente visto pochissimo in campo. Perisic non lo so. Va a sprazzi. Un po' come sempre. Gostesi in ex 382 Ita. Bellaneschio da Interista grande Pordenone. Bravo Ciocco a Cancelo. Ma deve migliorare anche Caramò. Male Perisic e Brozovic. Grande Ecardi. Grande Ecardi. Ha avuto occasione di gol. Dai e pensiamo all'Aiuto all'Udinese. Piedi per terra. Forza Inter. Nel male e nel bene. Male Perisic e Brozovic. Grande Ecardi. Insomma. Grande Ecardi sul rigore. Ma poi si è divorato un gol. Felpa stupenda. Grazio Dario. Non quella che sto indossando adesso ovviamente. Perché non è una felpa. Vincenzo Miele. Mancava solo che uscivate dalla Coppa Italia. Caro Vincenzo. Che spavento per noi e per le altre tifoserie. So cosa significa quando le riserve reperiscono gli undici titolari e vengono in odio al pettine. Talvolta anche con squadre più deboli. Anche Sarri viene attaccato ingiustamente dall'ambiente per il suo integralismo. Io penso che un tecnico quasi sempre si adatta al materiale umano che detiene a prescindere dalla sua filosofia calcistica. Una domanda per te Neschi. Che sentiamo caro. Dopo la prima partita senza i titolarissimi. Se oggi fosse terminato il campionato con l'Inter qualificato in Champions. Che valutazione e prospettiva faresti della panchina in funzione della tripla competizione. Campionato Champions Coppa Italia. Per capirci chi confermeresti sulla panchina e cosa o chi integreresti come ottimi rincalzi dei titolarissimi. Ogni volta mi metto in difficoltà con queste domande Vincenzo perché sono veramente intelligenti. C'è poco da confermare sulla panchina. Però li abbiamo visti davvero poco. Gio Cancelo a margini abissali di miglioramento. Lo stesso Caramò magari se si investe il giusto tempo può migliorare. Ma ne vato lui Caramò Cancelo tra Ederco ovviamente io lo reputo sempre un titolare anche se colporto non ha fatto male. Gli altri sono abbastanza poca roba. Sarà dura. Sarà dura qualora l'Inter arrivasse in Champions. Sarà dura andare avanti così ma penso che lo sappiano. E che nel momento in cui quella prospettiva si realizzasse sono sicuro che la mia squadra, il mio club, che è Zang, saprà dove mettere mano. Spero. Luigi De Stefani. Io resto dell'idea che un cambio massimo due a partita ogni tanto li può fare ma cambiarne otto è eccessivo. Anche se giochi con il Pordenone. Ederco ormai non è più una prima punta viene spessa a centrocampo a recuperare il pallone e poi prova a giocarlo o tenta l'azione solitaria. Poi ripeto per me i giocatori sono entrati troppi mosci pensando di fare una passeggiata. Invece dovevano andare decisima dopo aver passeggiato a Torino con la Juve. Un certo rilassamento ci può stare. Poi ci sono dei limiti visto che giocavano tanti ragazzini. E poi a parte il primo tempo nella ripresa ne abbiamo sbagliati tanti. Qualcuno ti ha fatto notare 35 occasioni da gol nostre. Ripeto, Cancelo ogni tanto 10, 15, 20 minuti per Candreva quando la partita è in ghiaccio fallo giocare. Lo stesso vale per Caramò anche se ieri sera sembra la versione nerazzura di Nianc. Mi fermo qui per non tediarti. Ma non mi tedi affatto, assolutamente no. Ma queste 35 occasioni da gol io non le ho viste. Ripeto, poi magari abbiamo una concezione diversa dell'occasione da gol. Ne abbiamo una concezione diversa per forza perché io non ho visto queste occasioni. Perché se una squadra ha 35 occasioni da gol a mio avviso e non segna nemmeno un gol è una squadra che non serve a nulla. Cioè è una squadra che è vergognosa. Malgrado crei così tanto. E poi se sei capace di essere così inconcludente non serve a nulla. Io non l'ho vista in questa occasione ma forse a questo punto sono io che ho visto un'altra partita. Non lo so. Però, ripeto, un rilassamento dopo la partita della Juve non credo. Io credo che i migliori in campo, se la vai a vedere, sono stati proprio i tre titolari. Ed erano quelli che magari dovevano essere più appagati. Quindi, Gagliardini, Vesino hanno fatto un'ottima partita. E Skriniar anche. Per cui non ho capito questa visione. Todisco, Alessandro. Abbiamo dato Jovetic e Banega. Abbiamo gente come Caramò d'estate. Quindi i giocatori da comprare sono pochi. Abbiamo dato via gente come Jovetic e Banega. Banega era un titolarissimo. Banega in questa Inter sarebbe stato fantastico. Mamma mia, un trequartista fantastico. Già immagino io. Banega, Borcavalero, Vesino a centrocampo. Bellissimo. Altro che Brozovic pure. Che è un giocatore che comunque ha una tecnica infinita, ma te le fa girare. Carbine, capobianco. E tu saresti un interista? Vabbè, sicuramente vediamo cosa c'è da dire. Ma lo sai che abbiamo giocato con otto elementi che non avevano mai giocato insieme. Spalletti voleva vedere dove potevano arrivare calciatori che non hanno quasi giocato mai. Certo, ha sbagliato al massimo. Doveva inserire tre, non otto. Meglio se non commentavate questa partita. Solo Hermes ma signali, capisce di calcio. Voi siete il male dell'Inter. Ah, ma là. Giustamente, come funziona sempre così. Chi non la vede allo stesso modo di un altro tifoso, magari è perché non capisce di calcio. E purtroppo è questa la bassezza. Si riduce a questo la bassezza di alcune persone. Per alcune persone, ma fortunatamente io non sono così per sfortuna sua, per sfortuna di carbine in questa fattispecie qua, perché sono sportivo e me ne vanto, tra l'altro. Perché mi piace appunto, come posso dire, creare, instaurare un dialogo tra chi mi scrive e la mia persona, in poche parole. Tommy Tommy dove hai preso quella felpa è bellissima. L'ho comprata su ebay un po' di tempo fa, onestamente. Mattia Battaglia, io la penso così, spalletto vuoto 4,5, per me non si mette mai tutta la seconda squadra, se non già rodata, anche se giochi contro squadre di basse categorie o sulla carta meno forti. Ci stava cambiare qualcuno ovvio, ma prima si pensa a sbloccarla e poi si può cambiare. Questa è la tua visione, va bene. Fagafa, bel nome, bellissimo nickname, quindi secondo il tuo ragionamento bisogna attaccare in almeno 6, perché se devono essere quanti difensori bisogna fare così? Un genio, un genio, io so che i centrocampisti devono fare inserimento in aria, mi ricordo dell'Inter Murignana, gli inserimenti di quasi tutti i centrocampisti, di Stanque, di Cambiasso, di Tiavomotto, non a caso, se non lo ricordi, ma io lo ricordo bene, segnavamo con tutti gli effettivi. Appunto perché in aria ci andavano un po' tutti. Poi se tu reputi che ci deve stare solo i card in aria, sicuramente sarei due volte più genio di me. Riccardo Ingletto, caro Neschio, molti direbbero che le riserve non sono all'altezza. Molti di quei giocatori che sono scesi in campo sono talentuosi ma non hanno giocato mai assieme, si sono trovati tutti assieme per la prima volta senza conoscersi. Non lo so perché comunque avete questa concezione, sicuramente giocare una partita è diverso, ma comunque fanno allenamento e lo fanno tutti i giorni questi giocatori qua. Non è che non si conoscono, non è che io vado a giocare con un giocatore dove non ho nemmeno avuto modo di scambiarci una parola. No, questi sono giocatori che comunque dalla mattina alla sera si allenano insieme, cioè, quindi un po' sì, sono d'accordo, non hanno mai giocato insieme. Ma avete capito che non abbiamo fatto un gol col Pordenone? Ma dai, Spalletti, ha schierato una squadra inedita, quindi una non squadra, ha sbagliato l'innesto di tutti questi ragazzi oggi come la gestione dei cambi nelle partite di campionato. Dato significativo, Canselo ha fatto più minuti oggi che nell'intero campionato. Un grande saluto, un grande abbraccio a te, caro Riccardo. Il Pordenone ha anche eliminato il Cagliari, comunque sì, abbiamo fatto una figuraccia. Bene, benissimo, finalmente. Come la vedo io, c'è poco da aggiungere, preciso e conciso. Leonardo Stocco, secondo me, bisogna far giocare un po' di più con le riserve per evitare altre partite così. Amala, sicuramente qualche innesto durante una gara di Serie A, di tanto in tanto, ci può stare, certo. Renato Terzo, ciao Neschi, vi risiede per un attimo temevole l'eliminazione precoce dalla Coppa Italia al cospetto di una squadra di Serie C, con le conseguenziali barzellette di contorno che ne sarebbero scaturite sulla nostra amata squadra. In tutto il corso della partita ho avuto la sensazione di vedere un Juve Inter al contrario, ovvero una squadra arrembante che attaccava continuamente senza fare mai centro. Del resto lo sappiamo, i calci di rigore in qualunque competizione sono sempre una lotteria e non sappiamo come va a finire. Paradossalmente dobbiamo ringraziare il secondo portiere Padelli e Nagatomo, che prima di tirare il rigore decisivo ha fatto una leggera finta che con le dovute distinzioni mi faceva ricordare Balotelli. Benissimo. Sfattivamente possiamo solo applaudire il Benevento che esce con tutti gli onori da questa gara. Bene cari amici, adesso avete compreso perché Spalletti in fondo fa giocare gli stessi giocatori, i fatti lo testimoniano e ne hanno dato una conferma. Francamente fra tutti i migliori sono stati Cansello sulla fascia destra e Caramò, anche se quest'ultimo nonostante la sua tecnica più che buona, gli manca ancora l'esperienza per essere più cinico e pragmatico sotto porta. Mentre Dalbert e Pinamonti mi sembrano spaisati, lo stesso Spalletti nel corso delle interviste di fine gara ha dichiarato di aver sbagliato le scelte. Io sono d'accordo solo in parte, del resto leggendo la formazione di ieri sera non c'è da stoppirsi se un allenatore faccia giocare le seconde linee, anche perché è giusto dare spazio a chi non gioca e a chi si allena insieme agli altri titolari, risparmando questi ultimi. Mamma mia. Solo che purtroppo nessuno poteva prevedere che la gara potesse via via complicarsi senza poterla sbloccare. Speriamo almeno che i titolari non abbiano sprecato parecchie energie in vista del prossimo impegno in campionato. Con l'Udinese ci è andata di lusso in quanto abbiamo rischiato al 50% di non passare il turno ed in caso di eliminazione in Coppa Italia non oso immaginare come la squadra avrebbe in futuro metabolizzato psicologicamente quest'ipotetica sconfitta. Lascio a voi le conclusioni. Un caro saluto agli amici interisti. Un saluto anche a te caro Renato. Da poco ho scoperto che sei anche un pianista. Ti stimo ulteriormente perché a me la musica del piano mi piace. Franco De Pasquale, Iuto, comunque partita tutta sballata. Sballata sì, sballato tutto. Se puoi chiudere la porta gentilmente nonnino, grazie. Ciao papà. Va bene, devo andare a mangiare però devo finire prima di leggere i commenti. Lorenzo Esposito. Ciao Neschio, non trovo possibile portare una partita ai rigori con una squadra di Lega Pro. Una partita che dovrebbe essere un allenamento ma poi giovani tipo Pinamonti, Caramò e tanti altri che dovrebbero farsi vedere da spalletti e dovrebbero essere il futuro dell'Inter non mi dicono nulla. Poi levi qualcuno di esperienza tipo Valero appunto andiamo in crisi, sembriamo di un'altra categoria. Ma poi nulla da dire, Pordenone non l'hanno fatto tutta la loro partita e sono stati anche bravi ma se è andata ai rigori di certo demerito nostro. E peso anche, peso anche, non ho capito. Comunque sì, Lorenzo, sì, sì, sì. Fiorello Negue, partita, scusate l'espressione, ma se con il Pordenone pareggiamo e vinciamo i rigori immaginiamoci quando saremo in cemino se ci fosse stato il Napoli al nostro posto ne avrebbe fatti quattro. Non voglio aggiungere altro che se no starei fino alla mattina qui a scrivere Forza Inder, Grande Neschio, PS, il problema dell'Inter è quello dei sostituti, non è A. Grande Fiorello. Vittorio Avanzi. Ieri la grande delusione che pone interrogativi per il futuro utilizzo del giocatore in campionato ha solo un nome, quello di colui che avrebbe dovuto concretizzare con l'esperienza il lavoro dei tanti pulcini in campo, costui ed erre. Già, eroe in tante situazioni, ieri è apparso invecchiato, incapace di assumersi responsabilità, incapace di ragionare, mai postosi come punto di riferimento, mai un'idea per sfruttare Pinamonti, mai un duetto con Caramò, una partita penosa e, ripeto, preoccupante per il futuro utilizzo in campionato. Speriamo si sia trattato solamente di una giornata no, ma sono molto preoccupato. Ciao Vitt. Ciao Vittorio, ciao Vittorio, mi piace questo con me, cioè purtroppo leggo parole che mi fanno anche male perché io sono stato sempre, e sono dalla parte di Eder, un giocatore che a mio avviso ha avuto anche pochi minutaggi, poco minutaggio, però è vero nella partita contro il Porto di Enone, nella partita di Coppa Italia, lì doveva dimostrare di più e, come dici tu, appunto legare giocatori di mena esperienza con il suo gioco, invece non è stato così, concordo, concordo pienamente. Luca Fecinter Milano, mi viene da ridere, sentire dire, cambi non all'altezza, povera ignoranza, dai vi spiego un po' del calcio. Se andiamo qui abbiamo l'allenatore. Allora, prima cosa, questi che hanno giocato stasera non avevano minuti, avendo giocato poco, seconda cosa, hanno creato un casino di palle gol, se facevano così schifo non le creavano, è mancata solo la freddezza sotto porta, a quest'ora si parlava di un'altra partita, ma gli occasionali e i gufi non aspettano altro per dire stronzate, poverini e crisi inter, poveri ignoranze. Qua non sta parlando nessuno di crisi inter, però vabbè, è la sua opinione. I secondi commenti, ma ci siamo quasi. Eugenio Cannavoci è andata di lusso, Spalletti uomo fortunato, a noi va bene così, forza Inter sempre e comunque va bene questo, Malox per tutti i gufi offre l'Inter, simpaticissimo. E B, ma come più, hanno aperto la porta, se potete chiudere la porta gentilmente, c'è casino, vabbè. Ma come è più pericoloso il Pordenone, otto occasioni da gol mancate, 35 tiri in porti, dovevamo solo fare un gol nel primo tempo e avremmo vinti 4-5 a 0. Il problema è che non abbiamo alternative valide in panchine ed è rimbarazzante. Non sono d'accordo perché se poi vai a vedere allora le statistiche, i numeri di Juventus Inter, allora la Juventus doveva farci 7 gol, dovevamo aver perso 7-0. Non è così che si ragiona, non si ragiona solo con i numeri, a mio modo di vedere ovviamente. D'Albert Cancelo, Sceni, Karamoa, Cerbo in zona gol, ma spesso era al posto giusto attanto da migliorare l'unica riserva che in un futuro prossimo può diventare titolare con tanto lavoro. Perisic, non si, non si, ah ecco, Perisic e Brozovic da buoni slavi sempre incostanti, Cardi, non l'ho capito, buono penso. Poi c'è Vincenzo De Cristoforo, un amico, condivido il tuo pensiero, infatti l'acquisto fondamentale per questa Inter è un altro giocatore con le caratteristiche di Borja Valero, altrimenti avremo sempre difficoltà. Giusto, giusto, impeccabile. Mister Luca R80, ne schiuccio, l'Inter ha fatto 30 tetti di importi e ne ha subito i due, ha fatto 69 cross, ha fatto il 75% del possesso palle, è vero che abbiamo costruito male, le azioni che potevano fare meno confusione eccetera eccetera, ma da qui a dire che meritava il Porto Enore perché hanno difeso in 10 per più di un'ora mi sembra troppo, sabato c'erano Gobbi e giornalai, per favore chiudete sta porta gentilmente, c'è casino, mamma mia che casino, giornalai che dicevano che meritava di vincere la Rubentus perché l'Inter non aveva tirato in porta, qui si cambia criterio ad ogni partita è sempre contro l'Inter. E a proposito di criterio, no, se noi andiamo ad analizzare i numeri come stai facendo tu mister Luca, purtroppo in molte partite ci siamo trovati dall'altro lato, appunto perché noi facciamo un gioco di rimessa, specialmente con le grandi come con il Napoli, come con la Juve, e allora solo perché crei di meno da un punto di vista statistico non vuol dire che sei inferiore, perché ripeto, se no con la Juve vuol dire che ne dovevi prendere 5 e ti dovevi ritenere da casa, invece non è così, non è così perché comunque noi la Juve siamo riusciti a tenerla abbastanza a bada, abbastanza. Tito, il vero problema non era dato dalle giovani riserve, il punto è che quelli di esperienza hanno fatto malissimo, Cagliardini e Der e l'irritante Brosovic, Cagliardini non mi è dispiaciuto, gli altri due invece proprio sì. Emanele Vaccarella, aiuto il Pordenone, aiuto il Pordenone, bellissima, questa mi è piaciuta tantissimo, ma quanti siete, quanti siete, quanti siete, io devo andare a manciare. Poi Francesco Carnevale, purtroppo stasera il canoneschio non è andata come doveva, purtroppo Caramoy Cansello, non sono all'altezza di Perisic e Candreva, per fortuna andiamo avanti, forza Inter Amala. Forza Inter sempre, caro Francesco Carnevale, una sofferenza assurda pazza Inter, una sofferenza incredibile, soldatino Abel. Vincenzo Navobbi22, ciao Neschio, dalla partita di questa serie si possono trarre due conclusioni, uno, non abbiamo secondi linee capaci di sostituire il titolarissimo e questo alla lunga potrebbe penalizzarci nella corsa per i primi posti in campionato, due, no Borca Valerio, no Parti, come detto anche da te nel video e lui il vero fulcro della squadra, mette ordine e geometrie in campo, cose che questa sera sono mancate alla squadra, mi viene da ripensare alla squadra dello scorso anno dove con Gallia, Conde, Medelle e qualità centrocampo era veramente a poca, nessuno riusciva a mettere ordine dopo scrignere i migliori acquisti senza ombra di dubbio, porca, e pensare che ci sono tanti tifosi che lo criticano perché è troppo vecchio, lento e macchinoso, sbagliano. Cansello, primo tempo da dimenticare, secondo tempo invece ottimo direi, qualche falcata interessante sulla fascia destra e qualche buona chiusura difensiva, deve crescere ancora molto ma è un giocatore con grandi doti a mio avviso, Caramò punto interrogativo, personalmente non riesco a valutarlo, alterna, buone giocate, cagate assurde, tipico giocatore veloce e tecnico ma scherzissimo davanti alla porta. Infine capitolo ad Alberti, ne è stato, ero stato il primo a festeggiare il suo arrivo perché si parlava di un grandissimo terzino, purtroppo per quello visto fino ad ora devo dire che avrei preferito avere in rose il terzino sisto del Pordenone al suo posto. Per chiudere, nota di merito ad Andrea Ranocchia, partita da sette e mezzo, praticamente perfetto e a Daniele Padelli, partita da otto, grande intervento sul palo, colpito dal Pordenone, sì dal Pordenone, è decisivo ai calci di rigore, ad averne di secondi portieri così, un abbraccio Nesco e forza Inter. Forza Inter, ecco poi a tutti quelli che dicono giocano poco, chi più del portiere se non giochi, se non senti la pressione della partita, chi più di lui dovrebbe risentirne. Poi Padelli, grande giocatore, tranquillo, tutto sul pezzo e ci ha fatto vincere la partita perché veramente lì, quella toccatina che ha fatto sul tiro che poi è andato a lambire il pano, anzi è andato a scendere in pieno, ci ha salvato. Giuseppe Gilberti, Neschio, vorrei sapere cosa ne pensi di Brozovic, personalmente non voglio più vederlo giocare nell'Inter, è troppo scarso. Tecnicamente non lo è, non lo è affatto, ha dei modi, anche da come cammina, da come si muove, ha dei modi irritanti, non è affatto scarso, purtroppo è uno dei pochi centrocampisti, è uno dei pochi, se non l'unico trequartista in rosa che abbiamo e per forza di cose deve, non dico giocare, ma deve essere dei nostri al momento. Antonino Maio, ciao Neschio, partita sofferta oggi, passaggio del turno importante, magari con un derby nei quarti di finale con il Milan, comunque volevo, sì, infatti ci sarei Milan, comunque volevo farti una domanda riguardando il campionato, cosa abbiamo noi più degli altri e cosa abbiamo di meno più degli altri, cioè delle nostre rivare, un saluto e forza Inter. Ma più degli altri abbiamo la fame, la voglia di rivarsa che grazie a Spalletti è stata inculcata alla squadra e abbiamo una tanta fame, tanta fame e finché questa motivazione sarà così alta staremo lì in alto, di meno abbiamo innanzitutto le riserve, abbiamo 12-13 giocatori titolari come dicevo nel video, poi basta, dopo c'è il vuoto e questa alla lunga può intaccare un po' i risultati, le prestazioni finali, però ce la giochiamo, perché finché la fame è tanta ce la possiamo giocare. Canepadino, ciao Neschio, hai pienamente ragione sul discorso di Spalletti, comunque lasciamelo dire, onora al Pordenone che è venuto a San Siro e ha fatto la sua partita, che ci serva da reazione, ma è più turnover, bella Neschio. Assolutamente sì, non l'ho ancora fatto, non l'abbiamo fatto, forse almeno non io, complimenti, complimentiamoci con il Pordenone che poi alla fine ha dimostrato che se ti impegni, se dai l'anima, se dai il 100%, sei già un passo avanti. E oltre ad dare l'anima era una squadra organizzata, una squadra che comunque sapeva di partire anche bene, sapeva fare, ha messo in fila 5-6 passaggi consecutivi senza sbagliare, cosa che l'Inter di qualche tempo fa non lo faceva neanche per sogno, con Gargano, quando l'Inter giocava con Gargano e altri elementi del genere, io mi ricordo che l'Inter sbandava da tutti i lati, invece questo Pordenone, grazie a Colucci, mister Colucci, secondo me ha fatto benissimo, poi non so se è stata una partita isolata o se questo Pordenone è sempre così, ma me lo auguro. Vincenzo Nerazzurro, sinceramente non sono soddisfatto di questa partita, abbiamo sofferto una squadra di Serie C, cosa che l'Inter non si deve permettere, ringrazio i giocatori in particolare per questa qualificazione, Daniele Padelli che si è rivelato para rigori sui singoli, Cansello un po' confuso, passaggi sbagliati anche quelli più semplici, anche tanti cross sbagliati, Cagliardini, inguardabile anche lui, molti passaggi errati e il rigore tirato malissimo, Scrinia sbaglia qualcosa e anche lui il rigore tirato malissimo, meno male che siamo passati contento per il passaggio ma non per il gioco. E come dire, assolutamente sì. Poi PS Grandinesco, sempre obiettivo e competente, testa all'Udinese. Grazie, grazie Vincenzo. Cerchiamo di dire la nostra, ripeto, io cerco di dire la nostra per rispondere nuovamente a quel commento di quel ragazzo, signore non so chi sia. Io dico la mia, non sono né un genio, non sono né un allenatore, non mi ritengo uno che capisce di calcio, non sono un cultore, io sono semplicemente un tifoso dell'Inter e che qui su YouTube dice le mie impressioni, condivide le mie impressioni con gli altri per aprire un dibattito, un confronto senza essere offensivi e quant'altro. Qualora lo sia mai stato con qualcuno chiedo scusa e che me lo facesse notare perché io non voglio assolutamente essere offensivo, che questo sia sempre chiaro perché qui sono qui per condividere i miei pensieri, per parlare della mia passione perché fidatevi, io amo tanto i miei colori, io amo tanto l'Inter, se non starei qui a spendere ore e ore del mio tempo senza guadagnarci un quattrino, non starei qui praticamente per passatempo, no? Se non c'è passione, se tu in un rapporto non ci metti l'amore, il rapporto come può essere quello tra un ragazzo e una ragazza, se non c'è l'amore cosa ci stai a fare, quindi fidatevi, io amo tanto i miei colori ma non devo soprattutto, non c'è bisogno nemmeno che lo rimarchi. E tutto qua. Un abbraccio cari, siamo arrivati a 42 minuti, siete in tanti e mi fa anche piacere. Ci becchiamo per Inter Udinese ma prima ci sarà un'intervista doppia e guardatela perché dopo quella di Biapri, io di Biapri e Kinoshi mi auguro che ci sia un bis del genere. Un abbraccio davvero, sempre forza Inter, amala, l'abbiamo sfangata.